La parola per l'appello al direttore, intanto informo che è arrivato un ordine del giorno ed è arrivato anche un mega emendamento aggiuntivo composto da singoli emendamenti che sono praticamente una richiesta di inserire osservazioni all'interno dell'espressione di parere al primo punto all'ordine dei lavori di oggi, quindi è un emendamento che chiede di inserire delle osservazioni. L'ordine del giorno pure è relativo a questa prima delibera, quindi li mettiamo qui in modo che possano essere visionati da tutti. Allora, io tanto lascio la parola... Allora, sì, prima ancora di lasciare la parola al direttore per l'appello, credo che sia molto importante per tutti i consiglieri sapere cosa sta accadendo in questi giorni. Il direttore, venerdì scorso, ha ricevuto una nota dal segretariato generale, i capigruppo ben lo sanno perché l'hanno discussa e vissuta dal vivo, questa cosa la stanno diciamo vivendo e digerendo da alcuni giorni, ha ricevuto una nota, una richiesta, velata e non tanto velata, di promuovere l'adeguamento a... A quanto previsito dalle normative, in merito alla composizione dei gruppi consigliari, sembra che siano inaccettabili i gruppi consigliari, i consigliari che abbiano un numero così elevato di membri come nel nostro municipio. Faccio presente che è lo stesso numero, la stessa composizione, c'erano anche diversi municipi, e il segretariato richiede una composizione più snella con solo i sei membri. Stiamo cercando di capire intanto quello che possiamo di capire, il motivo della richiesta, il motivo perché in questo momento, perché solamente al nostro municipio o ad un altro, sembra. Il direttore è bagliato un po' e aveva chiesto a su, a tutela, di adeguarci subito e di bloccare le attività di commissione, e ci è permesso di convocare il consiglio, se ne dimentico qualcosa di vero, e ci è permesso di convocare oggi, però con la possibilità di avere come primo punto questa nuova delibera di composizione delle commissioni, quindi con solo sei nomi, chiaramente la cassa è riscabito delle opposizioni, questo viene da sé, lo capite da solo, i più gruppi ci sono, e più rischio la partecipazione dei gruppi alle commissioni. Poi c'è stato un secondo incontro alle cari gruppo, dove il direttore ha spiegato che leggendo, approfondendo anche le normative, ha capito che poteva, diciamo, tutelando se stesso, tutelando anche i consiglieri, poteva darci più tempo, più tempo perché il bilancio per motivi costituzionali è qualcosa che non può essere calcato, e quindi deve andare avanti, quindi non c'è asserchietto sicuro di prendere su di sé la responsabilità, di permetterci di andare avanti con i lavori di commissione, fino al periodo dell'approvazione, della votazione, approfondendo la norma, lo sappiamo ancora, del bilancio di consiglio. Oggi il direttore ha fatto di più, perché chiaramente c'è la paura in alcuni consiglieri, soprattutto nell'opposizione, l'hanno messa a tanti, diciamo così, espressi, in altra voce, di passiamo alle cerchimate a fare queste commissioni, oppure no, perché chiaramente, i memory di quello che è successo già in passato, non è tutto che ricorderete, quello che è successo per la famosa commissione straordinaria su print, è vero che sono punibili gli uffici, ma sono i amministrativi, ma poi alla fine ci rimettono qualcosa, forse non poco, anche i consiglieri stessi, quindi per questo motivo hanno chiesto rassicurazioni al direttore. Il direttore ha dato la sua massima disponibilità, diciamo, a prendere su di sé la responsabilità di questo, questo poi, meno di vedere se consiglia, si sentono tutelati o meno, però alla sua estizione di tutelare tutti quanti noi, prendendosi la responsabilità e il firmando, quindi lui come segretario e del segretario già firma, la ciotto e il consiglio, mi consiglia, quindi capite voi che il consiglio, il fatto che il consiglio non correrebbe rischi perché siamo tutti presenti, però insomma, per la firma, già il consiglio, tutelati noi tutti, iniziato a firmare, anche la presenza della Capitruppo, dando così la sua autorizzazione alla Capitruppo che si sfogge e ha dato la sua disponibilità a firmare anche le commissioni, quindi una doppia firma, oltre la firma del segretario verbalizzante, anche la sua stessa firma di direttore per far capire che così c'è la sua volontà a sostenere in questo periodo diciamo di bilancio che preferirebbe nel motivo di costituzionale di non interrompere e quindi ci ha dato la sua disponibilità in questo e questo poi lascerò i capigruppo liberi di decidere se si sentono integrati o non tutelati da questa proposta del direttore e vorrei dirvi che interromperò il consiglio che subito o purtroppo perché chiaramente non può essere una cosa che in ogni caso va definita e mi ha dato una posizione ma anche io credo che sia giusto che tutti ci esprimiamo e diciamo se ci sentiamo tutelati o meno come si è andata diciamo che è sicuramente un grande passo quello che sta facendo il direttore perché ciò si è carica di una grossa responsabilità e la richiesta del direttore rimane però quella di adeguarci io chiedo per favore di fare silenzio perché non stiamo scherzando la richiesta del direttore rimane quella poi a chiusura del consiglio di bilancio di provvedere subito adeguamento perché lui su questo non intende ed esigere quindi se ci sono poi richieste da fare questo diciamo è quello che lui ha chiesto e che intende fare anche perché me lo ricordo il personale è verbalizzante da lui dipende la sua istituzione diciamo è scherzata è una variazione del suo compito e quindi non manderà più verbalizzanti nelle commissioni che succederanno il consiglio di bilancio questo lo volevo spiegare per tutti perché non so per quanti di voi sia stato chiaro tutto questo so che alcuni lo sanno bene altri meno bene insomma io volevo mi sono messa d'accordo con il direttore per dare informativa a tutti di quello che sta succedendo e soprattutto su quello che lui ha deciso di fare alla nostra tutela e adesso voglio un appello se non vi dispiace lo so che ci sono due delimere insomma una c'è stata richiesta un'estensione dell'intervento per 30 minuti c'è un ordine del giorno che quindi è qualcosa di aggiuntivo c'è un emendamento un mega emendamento aggiuntivo al primo punto della prima delibera però bisogna occupare dello stesso che i capi gruppo che non sono potuti pervenire in ogni caso la decisione perché non aveva rispettato anche l'area di consigli sopra nella seduta potessero parlarsi ancora un po' per me è importante e vorrei tutelare tutti i gruppi consigliari quindi se io dopo l'appello che faremo io direi che interrompiamo per un periodo che spero breve e vorrei suggerire a tutti la possibilità di continuare la capitola ottobre a fine consiglio in modo che adesso perlomeno si prendano delle decisioni generali delle insomma dell'accordo come non ne so quello che si forse non portare o non usare o come ci si sente il continuare oggi pomeriggio per capire cosa si decide cosa si decide nell'immediato e nel gioco nel futuro prossimo si se posso Presidente viene al perno quando si chiama l'HP Gruppo si dopo non ci mi sembra di aver capito chiedo due minuti prima dell'HP Gruppo per conferire quel mio gruppo di saggianza si poi entriamo il HP Gruppo noi ci piacciamo di questo parere grazie siete d'accordo può conferire perché non lo chiedo a tutti va bene allora io io interromperò comincerò a legare il gruppo intanto a parlare perché assolutamente per meno di un minuto il prezio li raggiunge dopo però vorrei che insomma questa è una di allineamento di questo gruppo e se questo mi posso preparare per il presidente innanzitutto per quanto riguarda la parte burocratica e la ministra che mi compete confermo integralmente quanto detto dalla presidente solo che evidentemente per la parte che mi ho preso e poi chiarimento sulle firme così non posso essere un valdetto obbedezionale chiarimento questo qualche interimento sempre per la parte amministrativa io ho sottoscritto firmarlo come la mia non autorità io non autorizzo non sono autoritario ma io assisto l'amore degli organi e per quanto riguarda le firme sono state apposte su due capi gruppo in oggi tre che sono stotte in questa settimana dopo chiaramente l'arrivo della pretenda nota che è il 29 tim o il martedì e il 50 andò dipendente che c'era le commissioni mi sono fatto portare tutte le commissioni che si sono stotte da ieri presentate ieri oggi e domani non ne saranno firmate da me ci sarà il suo modo del prezzante e la attestro la patricità che mi assumo tutta la responsabilità per amministrativa e politica e questo per quelle troppo poche domande che mi sono state rivolte io con questo amaccesso ritengo toveroso da parte mia nei confronti di tutto io mi consiglio attestare che per quanto mi riguarda le commissioni di 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 che saranno sottoscritti da me così come le da me da me ho qui sono che sono maggi, finiché, cammini, cammini. ... ... ... ... ... Grazie a tutti, grazie a tutti. 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 Il punto 2 è la proposta di deliberazione per espressione parere ai sensi dell'anticolo 6 del regolamento del decentramento amministrativo sulla proposta numero 141 2019, regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniare alle violazioni delle norme sui tributi di Roma Capitale. E' stato molto breve la materia e sono più abitudini di dettagli davanti a riprovata anche con una decennia di sale ora varia di 997-98 di aggiorno e successiva modifica operazione della comunale, in questo caso si adegua soltanto in una regolazione comunale, si adegua soltanto con una specificità per quella che hanno una partita solo per me, quindi non ci sia molto da dire. Il regolamento trae appunto è anche un aggiornamento della precedente regolazione della presidenza di regolamentazione in virtù a delle leggi, ma una sentenza che è intervenuta in avvia la legislazione dei principi che devono fare la legislazione del sistema minimale dell'intenzione. E penso che il governo, grazie, non è l'idea della lettura e delle motivazioni che peraltro sono apparenti e sostanzialmente indiscutti. Abbiamo già mirato in commissione il più buon assistenza degli uffici, da cui è un restantore conformale e fare le favorevole a questa che hanno fatto, diciamo, puramente tecnico amministrativo e non assolutamente comune. Grazie, Presidente. Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. ... ... ... ... ... ... ... ...... ... ...... ...... ...... ...... ...... ... ...... ... ...... ... ...... ...... ...... ... ...... ...... ...... ... ... ... ... ...... ...... ...... ...... ...... ... 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 ...... ... 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 Ovviamente noi, avendo anche su alcuni punti, avremmo trovato una conoscenza perché poi ci sono due tre cose, una per tutte, per esempio quella che stride per quanto riguarda il nostro municipio e quello che gli altri consorsi dovevano comunque tenere conto della parte municipale per avere comunque il consenso di intervento territoriale. E quindi quello che forse udirebbe dei nostri territori, quindi noi dovevamo entrare, quali menti, ok, dentro alcuni accusi e invece questa traditura non va proprio nel loro punto. Non possiamo, cioè non è il nostro ruolo, ok, di opposizione mettere una pezza a chi non c'è talmente già pensato di, così, non c'è la tavanella, ok? Quindi, capiamo da parte vostra, nel loro lungo sul ruolo, per far capire che non era così. Non so se ci riuscirete, immagino che bucciando e con questo ordine al giorno trovate a dare un segnale, diciamo, utilizzando una dialettica interna vostra. Certo, però noi non possiamo essere allineati in quanto avremmo, così dire, saremmo intervenuti nettamente in modo diverso al fine di poter ottenere un risultato che potesse essere quello che riguarda i consorsi, le abru e le opere scompetute. Quindi, non è cattiveria, questo è per chi dire non è cattiveria, ma non possiamo allinearsi e per quanto si riguardano, non saremo puntare in quanto dell'Italia a tutta una serie di queste osservazioni, ok? Però, tenendo presente, fanno i nuovi, quindi questo non riceve un lavoro, che è stato proprio dettico, se vi siete a fare, a girare le carte, quindi alcune da Roma, io sono di quelli che vi batterà le mani, ok? E' un'altra parte di azione, non credo che non ce ne siano, favorevoli, continuare, passi lonti, ok? Trovate la giunza di vostra ulteriore osservazione, con 11 voti favorevoli e 4 contrari, passiamo alla numero 3. Ci sono dichiarazioni di voto sulla numero 3? No, votazione, favorevoli. No, votazione a votazione. favorevoli, contrari, astenuti, bene, la tua volta con 11 favorevoli e 4 contrari, siamo da numero 5, dichiarazioni di voto, votazione favorevoli, contrari, astenuti, abbiamo trovato la scuola, 11 a 4 astenuti, come sopra, siamo da 6, dichiarazioni di voto, votazione favorevoli, contrari, astenuti, stesso risultato, quindi è trovato con 11 favorevoli e 4 contrari, siamo da numero 5, osserva la scuola, inserire libero, 7, dichiarazioni di voto, 7, dichiarazioni di voto, no, allora votazione favorevoli, contrari, astenuti, e anche queste persone con potere libera, 11 voti favorevoli e 5 contrari, siamo adesso all'illustrazione dell'ordine del giorno, ora ti ricordo essere con 15 minuti di presentazione, ci sono poi dichiarazioni di voto e votazione, sì, chi vuole illustrare l'ordine del giorno? Consigliate Rinaldi, l'ordine del giorno lo vuole illustrare? Allora, non ecco perché c'è, ma quando è appena letto, è l'ordine del giorno, questo è l'ordine del giorno, pure che non so, la delibera è giuntito a punto esteso, allora ecco, adesso lì, è premesso che sì, per dire che è necessario considerare la delibera in oggetto dimensione, perché dice che ha la delibera in oggetto? Chi ti ricordo? Chi ti ricordo? Chi ti ricordo? Chi ti ricordo? Quindi... L'ordine del giorno, invece, è l'ordine del giorno, del 7 a marzo 2017, è stata approvata nuova in migliore con 34 voti favorevoli in assemblea capito. Mbittoli ha avviato il sindaco, ha avviato le azioni tesi, abitato, 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 del Consiglio Comunale, 50 del 2009, che è la precedente delibera che sono volati regolamentare l'EACRU, che non ha mai passato alla vigilanza, su questo vorrei essere detto, quella delibera che ha regolato l'EACRU, non ha mai passato alla vigilanza, ma ha mai ottenuto un parere di tassieri aiato, né dalla fugatura. Allora, 50 del 2009 questo era, quindi su questo abbiamo rispettato un paio d'anni, insomma, che si facesse di più. Allora, in modo da assicurare ogni forma di conoscenza di trasparenza, a fine di dare impulso alle procedure di approvazione e esecuzione delle opere pubbliche finanziabili con l'utilizzo dei privati, dei proventi di quell'articolo 16 dell'IPR 182.001, per l'esercizio, articolo 249 della legge 724.009 o il 1994.001, così via, c'è l'ordine del giorno che ne va appunto maggiore trasparenza nella gestione delle attività degli altri che noi sposiamo solo a me. Tutti voi facciamo sposare questa necessità di essere trasparenti di quello che dicevamo prima, quali sono i associati E qual è la situazione del conto corrente? Tutta questa serie di informazioni che servono per capire come sta andando l'attività del lato. E qual è la situazione del conto corrente? 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 Io in commissione ho ben sentito quanto detto questa della delibera, presenta veramente delle grosse criticità, pensare di individuare con un ordine del giorno che non menziona assolutamente la punizione che è l'atto principio della delibera. E quindi punti salendo la cara così genericamente dicendo che una maggiore trasparenza nei processi di gestione abbiamo visto che c'è di andare a tutti i pazienti, quindi io ero arrivato sorpreso che per un lavoro così importante in commissione, per scendere dal punto di vista politico che possiamo dare noi anche dei clienti, come siamo, dei clienti, dei clienti. E quindi in questa attenzione pensavo già un altro ruolo, ne dico che i punti messi nell'ordine del giorno siano veramente assolutamente improponibili, non c'era di più o più forte forse da fare. Bisognava toccare una convenzione, una convenzione così importante, messa all'angine della delibera presentata. Da lì chiedeva se vogliamo fare osservazioni, miglioramenti o per il giorno. E' una convenzione in cui si puntualizzavano le opere puntuali. Io non ho preso a questo, se trattate, abbiamo discusso l'ordine, tutti e hanno avuto. Io nomino il responsabile unico del procedimento per fare le opere pubbliche. Non ho preso dentro cosa vuole questo accordo del procedimento, se poi l'associazione concertina può partecipare delle preveni alle gare e bambini. Abbiamo detto l'articolo in commissione, io apprezzo il lavoro del presidente che era quasi un autossolidario ma con tanta un'unità. Ha cercato di proporre all'aula un ordine del giorno difficile, ma con le salle di giustizioni che per dire bisognava dire toccare questa delibera. Quindi sto noi che la bocciamo a passare, che poi noi stessi nel parere della delibera la mandano a bocciate. Quindi a che servono, a che serve un ordine del giorno o delle osservazioni a una delibera così corposa? È vero, ci siamo dette alcune cose, però penso che per la materia, per quello che rappresentano le zone a margine della nostra città, dove sono nate, però in modo apposivo, ma poi col tempo siamo diventate una necessità. Quindi bisogna operare un recupero urbanistico di questi anni, fare l'opera pubblica è importante, siamo concordi tutti che bisogna accelerare questo processo, però bisogna entrare forse un po' di più, anche attraverso qualche consulenza che i nostri uffici dovrebbero dare al nostro lavoro qualche volta. Penso che ascolterò gli altri interventi di essere loro addirittura a non dotare l'atto, perché lo ritengo un prosiglio, ovvero rispetto al lavoro che l'intento del lavoro che il Presidente e la Commissione volevano fare anche per una famagrensia. Parere, parere del senso contrario, parere contrario, parere contrario, all'ordine del giorno, sì, scusate, scusate. Allora, andiamo avanti con le declarazioni di voto su queste ordine del giorno. Che ne sono? Una posizione? Sì, cioè delle adate? la bucina sarà quindi proprio come metterò un punto di armonostra questo momento si chiuderebbe anche un füre agente insieme non potremmo vedere che vuole quello che vuole fare ma è davanti a che vuole dire che cosa vogliono e a pancare dove dovrebbe poter trovare il prodotto del pre poi devono regolare la faccia di sono siamo uffici, siamo politici, perché noi lo diciamo sempre, è una modesta decisiva, è una decisa, ma ci sono già stavate a tutti i dipartimenti, senza un po' di meno del territorio, ma poi ovviamente la faccia fuori tutte le stesse. Ma si è semplicemente un amministrativo, che rappresenta tutti i reati di un'unità, per esempio, se ci vedete voi politicamente, qua l'unità della città, che immaginiamo il che ci ha fatto ovviamente, mi permetteva quell'accento mentre la crisi, allora che la crisi, però la crisi, mi permetteva come lo che era, come quando mi dobbiamo abannizzare, e noi non mi riusciamo sempre a pullare, che non lo sou neanche, secondo me, iniziamo a mettere un caso, di un elemento di tutti i competenzi, di un'unità di tre. due di chieste, un altro giudizio, e uno chiede a sempre come prima, c'è un milione di giorni di ovest, e se c'è un po' di senso, se ci sia un ragione di un assolutivo, probabilmente nella regione di 1929, in questo caso, in questo caso, in questo caso, in questo caso, le città di esercizionale, le cose che c'erano da Roma, Corino, Borgia, 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 Borgia e questo l'unico è l'unico che non è l'unico per oggi. Potremmo dire un aiuto? No! Potremmo dire un aiuto, voti favorevoli, contrarie, ostenduti, in ordine del giorno, approvato con 11 voti favorevoli e 5 contrarie. A questo punto dovremmo procedere alle dichiarazioni di voto sulla diritta elementata se l'è un altro da dire? Qualcosa diretta bisogna di discussione prima della dichiarazione di voto sulla delibera per espressione di parere elementata prima con l'aggiornio di queste 7 osservazioni. Non ce ne sono? Sì, il consigliere di tratti. Allora, parliamo comunque della delibera, poi diventato o meno abbiamo dato un giudizio prima e cercheremo di mettersi dalle cose anche con questo diraccio di chiudo. Allora, di che cosa stiamo in realtà parlando per aggiungere qualcosa? E' quello che ha detto il Presidente Presidente. Stiamo parlando di 43 milioni di Euro di opere pubbliche bloccate che sono a rischio. Stiamo parlando di opere pubbliche che sono ferme per un vizio, per una bolograzia eccessiva, per una serie di motivazioni che abbiamo visto e anche condiviso tra i lavori di commissione, ma che alla fine non ci con me incontri nel fondo perché se un'amministrazione deve lavorare per cercare di sviluppare e di qui sbloccare quelle che sono le opere che possono finalmente vedere alcune, soprattutto zone periferiche della città. In una condizione migliore non c'è alcun impedimento burocratico, interpretativo, la legge nuove alla anticorruzione, non c'è niente che intagliatore benvenire il lavoro e far proseguire speditamente i municipi, i comuni di Roma e i dipartimenti, tutti sulla stessa strada. In realtà quello che invece ha spaventato la politica in primis perché è ovvio che da quando si sono costituiti i consorsi dei comuni che sono stati negli anni, che è già necessità di trovare magari delle nuove forme di dialogo e di confronto con la politica. E poi c'è un punto, un conto a mettere in disposizione quelle che sono state le scelte come opera nel consorzio. Abbiamo già visto direttamente nei nostri veritari che se non ci fossero state le associazioni come confronto con i fortini non ci sarebbero state opere pubbliche, perché probabilmente già al suo tempo, 20-30 anni fa, quando si è deciso che l'amministrazione non sarebbe stata in grado da sola di arrivare in quell'elezione che conosciamo, sono state, costruite e poi ci sono, hanno sanato, non le conosciamo ormai bene. Se 20 anni fa, 30, si era deciso che quelle organizzazioni che potevano in un certo qual modo rispondere alle esigenze più vicine alla cittadinanza, in modo più tempestivo, in modo più veloce, in modo più diretto, io penso che si deve lavorare per sostenere la città di cambiandone, di sostenere, diciamo, la loro opera, che come abbiamo visto è complicata, perché è fatta anche le lezioni bancarie, è fatta di presi di responsabilità diretti da parte del Presidente. Sono associazioni, ci ricordava il Presidente dell'Ig, c'è un'associazione che quindi risponde direttamente al Presidente, se dovette succedere che non poteva la bolletta ex, attenti, inzaccano tutto, per riaprire quel predetto collettore che è collegato a quello che è collegato a quello altro, nel certo punto, il Presidente si è peccato una democcia, i cittadini stanno magari senza, per certo, perché forse è passaggio con il tuo, perché vogliamo assistere la bolletta, se no, il Presidente è sfortunato se ne ha dimenticato l'azzo, di tutto questo credo che tanto lavoro c'era da fare, se non metterci a tavolo con i diretti interessati e cercare di costruire la proposta variare per poter andare a domani, cioè sbattare, tutti questi condivetti fatti sono nelle casse di voi oggi. E' un pello che serve chiedere lì come si faceva un po' di tempo fa, io l'ho detto anche il Commissario, perché purtroppo succedeva, per l'ideologia un po' spinta che poi ha addirittura cercato di piegare la politica tutta ad una, diciamo, impropria interpellazione delle azioni dei consorsi, che ripeto forse andrebbero sostenuti, forse corretti, forse aiutati nella parte della procedura amministrativa, ma in questo modo questa delibera che loro stessi hanno anche molti di voi definiscono delle impramontate, ma che si è rimpalata, non fino a assessorata o aggiunta, poi è ritornata all'ufficio, poi è ritornata o aggiunta, poi alla fine ce la siamo ritrovata sul tavolo dei municipi, poi alla fine ci dobbiamo anche esprimere su questo. Alla fine di tutto questo lo dobbiamo di fatto decidere se scartiamo con le opere pubbliche, se scartiamo questi soggetti oppure decidiamo di farlo in un altro modo. Benissimo, mi sono arrivato il Comune di Roma e me l'ha detto assessore primi sulla tinta perché giustamente in un comunicato le difende le periferie, dice che non possono essere dei quartieri di dormitorio, non possono essere dei quartieri di dormitorio. Se avessi fatto questo in compensamentale si è detto benissimo, quei 43 milioni ce l'ho io, le faccio io le opere pubbliche. E no, e no, non l'ha detto, gli ha detto che quelle non vanno bene, e quell'altro funziona, e quelli si è lavorato uguale, però come si arriva a sfruttare quei soldi e soprattutto addirittura con la forza pure, con alcune cose che dicono, c'è signora sindaca, se le riprenda le chiavi, ma forse a lei, per senso provocatorio, se siamo arrivati a questo vuol dire che vuol dire stare a fare e seguire la guerra tra poveri, tra chi veramente, e io ringrazio il consigliere Pugliata perché per centone diciamo, si è sempre scasso, e ancora una volta il commissario ci ha detto, vi rendete conto che noi siamo rimpallati da un scoperto all'80-20 anni, e noi abbiamo delle opere pubbliche che sono complete e che non riusciamo a prendere e avere in carico, se qui c'è detto che manca una letterina, e io ringrazio pure il presidente Renate, perché quando l'ottima volta ha portato il dibattimento, abbiamo appunto per la certissima volta la dimostrazione che non è che c'è una risposta appena della politica, perché a volte tutto il termo perché un dibattimento lo ricevono a me e non rispondono, perché non ha letto, perché a un certo punto è arrivata una cosa che dicevo stai per conoscenza, e proprio ma questo si è spettato a Piazza, questa è stata l'illuminazione, stiamo parlando di una strada, stiamo parlando di un parco pubblico, ora iniziamo a parlare del nuovo, voglio provare, del nuovo stadio dell'Europa, eh, da Piazza Lancia o c'è così, stiamo parlando delle opere che servono per la produzione, quindi ringraziando per il lavoro che si è fatto e cercando di avere un contributo diretto, io sono sempre stata anche nella stessa cucina, però io faccio un lato conoscenza, non dobbiamo parlare quando abbiamo avuto alcune testi, non ci siamo resi pure conto di vedere la cucina, non c'è un problema, ma io mi chiedo per dire e per invadire che purtroppo questa delibera è sbagliata, l'ideologia che l'ha tirata a sott'è proprio la mente è sbagliata, questa delibera va a ritirata e va a riscritta e quindi noi scriviamo un punto contrario, grazie. No, 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 no. No, Presidente, non so cosa ha avuto così il tracetto. Allora, no. Non mi rende conto di parlare del ruoto del contrario del fuoco. No, no. Ma per vedere quante delle battute che sono in legge, è complicata questa cosa, non ha male, quindi è meglio, insomma. Prendete conto che in mezzo del libero non ha niente anima nel corpo, non è anche una struttura dove può c'è. E a di là del fatto che si è cercato di mettere una piazza a colori, però effettivamente poi non tiene, non tiene l'è. Però questo principio è un'ommissione a un merito. E' un problema è quello di aver messo di fronte al tavolo anche la consapevolezza di doverle a confrontarsi con i consorsi, con l'opera sconto, con l'arco. Quindi il Presidente è venuto e ha messo di fronte alla Commissione che comunque sia questo percorso è servito. Questo percorso è accaduto in preghiera, tenete da cancellare, però ha reso, diciamo, più umano, ha resi più disponibili queste strutture, che come ha detto lui c'era nel meccanismo, un po' di un'alichia. Mi sembra che, a utilizzato questo termine, erano un po' chiusi, c'erano un po' vendati questi consorsi. Detto dal Presidente, insomma, dei consorsi scontro, come si chiamano, sigla, Icidi, HLBT, come si chiamano, comunque è quello. E' tutto un scorsone, no? Un scorsone. Quindi, questa è una cosa importante, se da dentro, se dall'interno, si capisce che c'era difficoltà, c'è stata difficoltà, c'è stata, come si dice, un silenzio, una non comprendere come alcune cose avrebbero dovuto fare il proprio percorso, che potrebbe essere, come si dice, per avere il masco del risultato, certo che quando uno dei attenti lavori diceva, stai a cedere, a noi fa piacere. E da lì si è cercato di migliorare, ok? Di evoluzione, istituzione, struttura, e per quanto forse che potevano ottenere subito, era quello di, ecco, il protocollo d'intesa effettuato qualche mese fa da questo municipio, era l'intento di dargli una figura diversa a questi consorsi, di dargli un'immagine diversa, di non farli passare per quelli appunto che ho detto prima, di essere estremamente chiusi e non aperti a dare gli suggerimenti. Poi, loro hanno fatto questo, hanno fatto questo, hanno capito questo e sono anche presi disponibili, però poi, come spesso accade, dal centro, dall'amministrazione, questa apertura, questa disponibilità non si è tramutata in nessuno di quegli passaggi che la delibera avrebbe avuto bisogno. Nessuno di quegli contenuti sono stati inseriti nella delibera che avrebbe fatto la differenza, per cui, al di là di tutto, ecco perché gli eventamenti, famose osservazioni, l'ordine del giorno votato, però che voi avete cercato, in qualche modo, di mettere di paro, perché io non capisco voi se avete in pari che il fatto che avete le vostre passioni votate, o il giorno votato, però siete contrari al parere, che ci fa pulire al parere contrario. C'è stata una cosa un po' che, dal punto di vista, o l'inti costruite, però, che pulire si può fare da tutto, c'è anche peraltro. La confusione è una legna, nonostante la volontà che voi avete spesso e non abbiamo capito, ma poi li avete parlando non hanno la linea. Questo non sta che tu arrivi al comune, c'è capito? Che cosa volevamo fare noi? Sono contrari, però, ci abbiamo sputato una serie di cose che purtroppo pure loro non saranno mai a commettere, perché poi si dà un mare in pazzo con loro. È complicato, eh? Già non sanno vedere fotografie normali, penso se devono conformi. Ok, quindi, generalità è totalmente contrario, ma non per i lavori, ma per quello che è partito, si è verificato e si è tradotto, quindi, perché la madre è vita per Giovese d'Ariba. Quindi, generalità, la favorevole al parere contrario, ci sono altre le azioni, sì, c'è un giorno. Grazie, Presidente, che io si tedi a mente per ribadire una domina di nuovo, una domina di nuovo, una domina di nuovo, magari, un voto, una domina di nuovo, ma a distanza da ogni un anno, caro Presidente, caro Presidente della Commissione, mi domando che fine faranno le armi? Ultima speranza per la periferia. Era un titolo di un giornale che nel 2018, dopo un arrivare al Palù, veniva titolato, domando al Presidente, per esempio, sicuramente in Commissione, la differenza tra Consorzio e Consorzio è noto e differente, quindi non dobbiamo buttare il bambino con l'acqua sporca, l'ho detto già in Commissione, perché ha un valore, cioè, ricordatelo, ricordatelo, le periferie sono state veramente, hanno vissuto momenti negli anni 70 difficili, anni 80, quindi questa soluzione trovata ha garantito acqua, luce, gas, ha garantito, come dire, i servizi primari, bloccare queste risorse con una delibera che secondo me, che abbiamo fatto in Commissione, voleva essere cattiva, ma non lo è stato, voleva essere violenta, insomma, ritengo che veramente, io mi domando quando riapranno speranza i cittadini che abitano a Grecia, più attorno che a Centrone, più attorno che nelle zone O, dove ci sono provati in delle miei zone, e purtroppo le opere pubbliche non vengono realizzate, quindi l'auto al fatto che venissete accorti anche voi, così non funziona, però, ricordate che il cammino di una delibera di giunta deve essere eseguito prima, si determinano le cose anche con la partecipazione, quindi, mentre la maniera a Campidoglio scrive, una proporzione 142 così lunga e importante, ricordiamolo sempre che se abbiamo delle aree interessate, noi abbiamo l'esempio fondamentale di due, tre, che conosco io, in particolare l'autozone, che su cui si doveva intervenire, e noi dobbiamo piazzare la tenda lì, mentre la maniera scriveva una dosi importante, come bisogna piazzare la tenda prima del bilancio, e poi ne discuteremo, penso, il giorno dell'approvazione, e forse questo avrete imparato, perché se è vero i numeri che ci hanno anticipato, quindi è battuto bene se il bilancio aumenta, ma non vorrei uscire fuori tema, tranne che dire che sono tante le opere che aspettiamo, e quindi chiarezza e sinteticità nei provvedimenti, che vorrebbe, invece di scrivere una delibera così articolata, allora va detto in commissione, che passerebbe un articolo al codice degli avventi, un articolo, ad esempio, su quello dovremmo intervenire, perché le opere si bloccano, non si fanno, il resto lo compiude, sempre per un vizio, tra la ditta portatrice, e la responsabile del procedimento, sempre per una ditta rispetto a un'opera fatta in mal modo, che bisogna essere sedei, quindi un articolo, ma si fanno le passi, ma chi garantisce l'opera, tra più anni, piazzare la gara, più semplice, questa è la garanzia che dovrebbero dare le imprese che partecipano, però per fare questo c'è bisogno veramente di un articolo solo al codice degli avventi, confermo il mio voto negativo a detta delibera, senza che il Presidente possa magari battere il ciglio, perché in commissione penso sia stata un'animela, il fatto che questa delibera è di favorevole al parere contrario. C'è un'animela che ha chiesto un po' che desidera consigliare a quello che... Grazie Presidente, intanto voglio ringraziare il Presidente Rinaldi per la sua obbligazione, una ricordata di maggioranza in quattro c'è speciale, il Presidente ha fatto un viaggio, scrivendo osservazioni, scrivendo un viaggio, una poca per forza, dire che ci hanno sentito al punto di vista tecnico, che non si fa alcuna politica, una cosa un po' più forte, e stiamo aspettando questa delibera da un po' di anni, è arrivata questa delibera e non siamo tanto contenti, non siamo tanto contenti perché intanto non toglie al suo interno un protocollo di interessa su cui questo municipio mi ha fatto una situazione anche di sperimentazione di rispetto ad altri dettagli del suo gioco umano. Quindi se Pato Coro fosse stato, come dire, acquisito l'insegno della visione di questa delibera forse che ce le consente per un po' meglio. Poi ci sono anche altri punti che sono abbastanza strani, come per esempio la concentrazione sulle opere che sono già passate in conferenza dei servizi, quelle non passate in conferenza dei servizi, o sono bloccate oppure dobbiamo aspettare i piani particolarizzati da parte del Comune che possono passare anche 55 anni. Quindi praticamente si lascia bloccato tutta quella parte che possono la maggior parte delle opere e quindi dei soldi da spendere dei vari milioni che hanno in bancia questi consorsi. Ho detto questo, io non mi dilungo tanto perché la risposta di commissione, sebbene io non abbia partecipato, per motivi di lavoro però era, penso che è stata abbastanza complessa, riarticolata e anche approfondita. Il Movimento 5 Stelle è contrario a questa delibera, così come formulata deve essere già ritornata. Deve essere probabilmente riscritta in questa delibera, in questi consigli, in queste osservazioni, diamo anche dei suggerimenti pratici. Speriamo che sia accolto anche quanto scritto nel nostro protocollo perché è avuto un'importanza abbastanza rilevante, non solo qui ma anche di esperienza per altri municipi. Io chiudo dicendo che il Movimento 5 Stelle vota il favorevole al parere contrario che è già stato espresso in commissione e quindi andiamo di fatto verso un'unanimità, diciamo, di motivazione su questo aspetto. Grazie. all'unanimità, Chiude qui, sono in vermoglio quale 17.22.